Musica Si può pensare che dalla pedana arrivino nei negozi e poi nei guardaroba dalle ricche signore borghesi che restano fedeli clienti dei tradizionali payos Chanel. Ma la moda dov'è? Musica Queste tuniche trasparenti che possono essere indossate solo da Claudia Schiffer e da poche altre. Ma Lagerfeld vuole soprattutto stupire e siccome lui viene in mente ha ragione lui. Musica